Siamo tornati pronti per andare dal nostro Thomas del Bianco e il suo ospite Filippo Giovannelli, artista di strada. Insieme a lui parleremo di come gli artisti di strada rigenerano gli spazi grigi della città di Pesaro. A te la linea, Thomas. Sì, eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno ai perfetti di Pesaro della mattina. Un po' l'audio. Siamo a Pesaro in uno studio di serigrafia nella zona del quartiere di Tombaccia, proprio vicino al sottopasso di Via Gradara dove è stata realizzata un'ultima opera in chiave, possiamo dire, astronomica. Siamo insieme a Filippo Giovannelli che è un artista di strada, come possiamo definirti, della associazione Reur e Reperti Urbani. Ecco, il tema, come dicevi tu Ludovica, è il tentativo di creare nella città, soprattutto dove ci sono gli spazi grigi, i sottopassi, ma anche aree degradate che ci sono a Pesaro così come in tante altre città, non solo nelle metropoli. Ecco, cercare di dargli un tocco di colore, di vitalità, di creatività, anche per rendere le città più belle, più accoglienti, più decorose. Ecco, da tanti anni è uno degli obiettivi, dei lavori che porta avanti Filippo Giovannelli, che è un artista molto conosciuto nella zona. Ecco, parliamo un po' di questo sottopasso, se poi ci sarà modo magari di vedere qualche immagine mentre ne parla l'artista, anche per i spettatori, per capire di cosa stiamo parlando. Che cosa raffigura questo spazio che è qui vicino al sottopasso di Viagradara? Allora, buongiorno a tutti intanto. Il sottopasso di Viagradara in questione è stato chiamato Luogo Comune. È un artista internazionale italiano e in questo caso specifico l'artista ha voluto omaggiare con appunto tutte queste raffigurazioni di spazi, galassie, pianeti e sistemi solari l'osservatorio Valerio che è all'interno dei nostri orti giuli. È un'eccellenza italiana che a tratti viene dimenticata e appunto l'artista l'ha voluta riportare alla luce in quanto è un'eccellenza pesarese non assolutamente da trascurare. Quindi all'interno ci ha inserito pianeti, sistemi solari, fasi lunari, appunto tutte quelle tipo di dati che riusciva a raccogliere l'osservatorio che nasce come meteorologico e che tuttora è in funzione tra i più antichi d'Italia, appunto. C'è anche poi, no? Per ogni artista c'è anche un lavoro legato alla serigrafia, no? Sì, come questo sottopasso tutti gli altri è affiancata una serigrafia, numerata e firmata dall'artista e questo costituisce la possibilità di portarsi a casa una parte del muro e incorniciarsela e potersela guardare tutti i giorni all'interno di propria casa. Mi piaceva far sapere anche i telespettatori che magari girano nelle loro città, vedono magari questi artisti che colorano le varie aree di cui stiamo parlando. Che procedimento c'è dietro a questo lavoro? Ovviamente ogni opera è a sé, avrà anche dei tempi, delle persone diverse, però indicativamente come si svolge questo lavoro? Allora, da sempre Reperti Urbani individua gli artisti in base alla loro poetica e al loro lavoro che è il percorso artistico che intraprendono da quando insomma escono allo scoperto. Da lì, una volta che troviamo l'artista giusto, lo affianchiamo nello spazio più idoneo e dopodiché gli lasciamo completa carta bianca per sviluppare la sua poetica in relazione con la nostra città e il territorio dove andrà ad operare sostanzialmente. A quel punto si organizza per tempo tutta la tematica e il progetto del muro con tutte le varie parti logistiche e da lì poi si ospita e lo si fa entrare, lo si immerge a 360 gradi nella nostra situazione, nella nostra città di mare, nelle nostre colline, quindi in tutto quello che lo fa innamorare e a sua volta lui poi ce lo restituisce con dei presenti, con dei regali, con delle easter eggs, come si chiamano in gergo, appunto che l'osservatore andrà a scoprire quando attraverserà il sottopasso passeggiando insomma. Ovviamente, come dicevo prima, ogni opera c'è il tempo indicativamente quanto tempo ci vada un artista a realizzarlo, un'opera non sottopasso. Allora, in questo caso, visto che Reperti Urbani ha la possibilità di avere già da qualche anno diversi associati e volontari che aiutano fisicamente anche l'artista a riempire le campiture, quest'opera l'abbiamo realizzata in un tempo record di meno di una settimana, altrimenti se l'avesse seguita tutta l'artista probabilmente più di dieci giorni ci sarebbero voluti. E c'è in arrivo un altro sottopasso? Il prossimo ed ultimo intervento sarà nella zona di Loreto, via De Cioraggi, con un altro artista, questa volta arriva direttamente da Londra e sarà una sorpresa perché il sottopasso sarà un'altra opera diversa completamente dalle prime e la seconda. Ovviamente una volta che l'opera è finita, tanta gente, soprattutto quando parliamo di sottopassi, tanta gente la vede, parliamo anche di aree strategiche dal punto della viabilità, no, locale e arriva poi dopo il feedback, magari dice a me piace, piace come per tutte le opere, c'è anche chi la critica, però quando se ne parla è importante. Sì, assolutamente, noi teniamo tantissimo a spiegare appunto la tematica di ogni opera che andiamo a realizzare perché dietro ogni opera c'è un grosso tema e un grosso valore. Quindi una volta che comprendono tutto questo, l'osservatore non può fare altro che apprezzare è ancora meglio tutto l'operato, anche nelle forme che magari all'inizio non riconosce. Per svolgere questo lavoro, che percorso si fa? C'è una formazione? Per fare questo lavoro non ci si arriva diciamo come obiettivo, ma è un percorso che nasce, si evolve strada facendo. Il primo intervento che abbiamo fatto a San Decenzio addirittura è stato un workshop, quindi un qualcosa che non era mai stato fatto dall'associazione dove più di 15 persone hanno collaborato contemporaneamente sotto la direzione di un artista internazionale come Albero Nero e abbiamo realizzato un'opera grandiosa con quasi 20 persone all'attivo. E quindi queste cose si creano strada facendo ed è un momento di aggregazione, cosa che in questi tempi sono rare, non indifferente, che sta contagiando parecchie persone e parecchi cittadini. Quindi più che una scuola si sta sulla strada per poi. Si sta sulla strada, si impara a stare insieme alle persone, a collaborare e soprattutto in un mondo adesso che va sempre più verso l'individualismo, mettere tante persone al servizio di un'opera comune più alta di loro è ancora più bello e magico. Da quanto tempo è attiva l'associazione? L'associazione quest'anno compie otto anni, dal 2014, e ogni anno cresciamo in popolarità, in celebrità e in team fisico, insomma, in persone. E te quando hai iniziato a svolgere questa attività? Ecco, diciamo, probabilmente prima, no? Io sì, alla fine degli anni 90 già mettevo i primi passi sui muri di Pesaro. Da lì la credibilità e anche la possibilità di andare a operare al campus scolastico ci ha dato più visibilità e quindi poco a poco abbiamo appunto avuto la possibilità di avere fiducia da parte delle amministrazioni e ancora prima da parte dei cittadini. Parlato proprio no del campus scolastico, a questo punto possiamo introdurre anche il tema legato no a Mural Vernacolo. Esatto. Che cos'è? Diciamolo dai. Mural Vernacolo è un progetto che nasce come emporium in pillole in realtà nel 2012. Quest'anno siamo a 10 anni, è un progetto che vuole valorizzare le radici della lingua, il dialetto locale e praticamente avvicinare anche tutta quella fascia di persone che in Murales potevano vederne i colori ma il senso non riuscivano. Quindi nasce quasi per gioco con un progetto coordinato insieme a Filippo Nicolini e un po' alla volta ho cominciato a sfruttare delle pareti inutilizzate di Pesaro per appoggiare appunto queste frasi in dialetto, sempre sotto la supervisione di Carlo Pagnini. Ricordiamolo, che è un mio grande amico e collaboratore che mi dà la tutela e mi spiega bene quali sono le punteggiature, gli accenti ovviamente, non potrei mai permettermi di andare senza il suo nulla osta. Da lì in poi è cresciuto, tante frasi, qualche anno fa sono riuscito a uscire da Pesaro e a portare frasi in dialetto in Sicilia e in Puglia. Beh, come dicevi, tante frasi, diamo il senso di una di queste frasi, Tembota che la è dura per tutti. Eh, Tembota, ne dobbiamo veramente ripetercelo questa frase perché l'abbiamo usata. Teniamo botta, no? Teniamo botta, non tutti i telespettatori conoscono il dialetto Pesaro. Teniamo dura, sì, Tembota in realtà da nord a sud si capisce abbastanza bene. Tenere duro contro le avversità, contro le cose difficili, piccole e grandi della vita. Tanto siamo... Vediamo appunto proprio le immagini anche della lavorazione, no? Il video di Francesco Direna Videoriprese, grande videomaker che sta seguendo appunto tutta la nostra situazione e dà appunto il giusto valore a tutto il lavoro che facciamo. Da lì in poi appunto i ragazzi sono stati coinvolti anche della scuola dello scientifico, quindi anche tramandiamo alle nuove generazioni il valore di cosa significa curare una parte della città, insomma, quindi un po' educazione civica, un po' scuola di strada e c'è un po' tutto. Che anno è Tembota, vi chiamo? È nato nel 2014 e rifatto quest'anno, a primavera. Diciamo che questo, diciamo, secondo intervento può avere anche il senso legato, no? Tenere duro anche nel periodo difficile che abbiamo vissuto, soprattutto con la pandemia. Quando è nato il Tembota eravamo in piena crisi economica e quel Tembota lì è stato tenere duro per il precario, il cassa integrato oppure quello che non arriva a fine mese. Poi è arrivata la pandemia, adesso teniamo botta alla pandemia. Quindi sempre, sempre. Tenere duro sempre. Andiamo verso la chiusura. Adesso parlavamo di questo nuovo sottopasso, poi altri progetti. Ah sì, Mural Vernacolo sta praticamente producendo tanto. Quest'anno ha rinfrescato tutte le sue frasi che aveva realizzato negli anni precedenti. Avrà in serbo ancora qualche cosa per la cittadinanza che adesso non vorrei svelare. Con reperti urbani, uguale, manca l'ultimo intervento e ancora altri ce ne saranno per i prossimi mesi a venire. Dovete solo rimanere collegati. Per il resto abbiamo tante tante sorprese in serbo per voi. Bene, Ludovica, se può andare, noi vi restituiamo alla linea al studio. Grazie. Grazie a tutti.